Pare che con l'avanzare degli anni lo stimolo della sete tende a decrescere con pericolo di disidratazione. Si va beh ma se non si beve ferradelle è troppo buona per lasciarla in piggo e quando è finita non è finita qui. La plastica non inquina se si rinnova un po' come la vita. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS